Ok, quindi questo Perfetto E questo è andato Adesso ci rimangono i due pentaceratopi E l'apatosauro anche Solo perché il metracantosauro lo mettiamo alla fine Che sennò ci rischia già di sbranare qualcuno E così di botto non era proprio la cosa migliore Allora, ci vuole quindi Qua 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 Poi Qua un altro contratto Perfetto Perfetto Sistemiamo un attimo qua Ok Allora A presto. Ok, allora, vediamo un po'. E' a posto qua, e' a posto, anche di qua, tempesti in arrivo, quindi andiamo bene, dobbiamo costruire degli edifici di qua, ok, che tipo di sabotaggio? Ok, corrente elettrica, nessun problema. Non succedessero, quindi fai in modo che gli edifici abbiano l'energia necessaria. Il livello di allerta di tempesta è aumentato. Signore e signori, a seguito del bantaggio, ritroviamo di arrivare finché le condizioni medie non miglioreranno. Ok, vediamo il lavoro. Ok, vediamo il lavoro. No. Si slitta un po'. No. Per i malati... No. Usiamo sempre questo veicolo qua che è vicino. Ora. Allora, dove l'ho messo il camicello di questo precinto qua? Eh già. Classic Drift. C'era l'obiettivo, quello mi pare, era sempre di fare un tot. Un po' di metri continui in derapata per poter ottenere una skin di un veicolo. Però ci vuole il terreno adatto, perché devo fare? Ci vuole provare verso il finale. E questo. No. Ok, perfetto. E anche questo è risolto. Allora, dicevamo... Questo, 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 questo. E ultimo. Un altro contratto. Vale la pena di darci un'occhiata, non credi? Ok, formazione come? Candelle rosse. No. 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 No, di certo. Ok. C'è uno di queste due? Eccola qua. Allora. Qui. E qua. E qua. A dopo. Ok. Chi è stato maledetto? Perché? Allora. Allora. Qua. E... No. Ma hai detto che sei nascosto dietro la macchina? No. 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 Se ti piglio... No. 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 Ok. Ho fatto il contorno. Per fortuna che ero vivro sto coso. Quindi non fa danni. No. Ma qui non scappi. Ma qui non scappi. Ma non di nuovo. bello stigi monoloc vediamo eccolo qui 1 2 torniamo al veicolo no questo allora prima chiudiamo e adesso pensiamo anticipiamolo c'entra ah no qui 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 richiesta di raccoglie ok patosauro patosauro di qua ok un po di bargaining la zona lì ma vabbè le congratulazioni sono d'obbligo così come i ringraziamenti quindi complimenti e grazie allora vediamo un po' il prossimo contratto in linea d'aria dovrebbe essere questo sì infatti i contratti sono il nostro pane quotidiano e un po di pane in più fa sempre comodo però siamo sempre soggetti a rischi da parte di cosa la base non ancora non 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 No, questo. E' il secondo. Ok. Ecco qui la famigliola felice di Stigimolo che è pronta. Quindi... Ok. 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 Ok.